Buonasera e benvenuti. Sono Enrico Frosio e stasera avrò il piacere di fungere da moderatore nella presentazione del libro del professor Corrini, Oratorio San Luigi Leno, Storie e Attualità. Non sarò solo stasera, ci saranno Don Davide Colombi, responsabile dell'Oratorio San Luigi, il maestro Andreino Corrini, autore del volume presentato stasera, Monsignor Giovanni Palamini, parroco delle parrocchie di Leno, Porzano e Milzanello, La dottoressa Cristina Tedaldi, sindaco di Leno Don Alfredo Savoldi, vicario episcopale territoriale E Don Amerigo Barbieri, che per anni è stato responsabile degli oratori bresciani e oggi è coordinatore del progetto Storia dell'Oratorio a Brescia. Io inizierei diciamo con il padrone di casa. Don Davide, il recupero della storia dell'Oratorio inizia almeno tre anni fa, soprattutto grazie al lavoro dell'area comunicazione che sul sito dell'Oratorio pubblica, anche adesso, scansioni di documenti e di fotografie legate alle vicende di questa istituzione, se mi passa il virgolettato. Allora le chiedo, qual è il ruolo della memoria in un ambiente poi come l'oratorio, che è innegabilmente legato e connotato all'aspetto giovanile, ma in realtà con le sue iniziative finisce molto spesso per accogliere, se mi passa anche qui l'eufemismo, tutte le età della vita. Innanzitutto mi permetto di ringraziare quanti collaborano nell'area della comunicazione dell'oratorio. Quindi chi segue il sito, le comunicazioni varie sui social, i vari interventi, una sorta di responsabile appunto della comunicazione. È un lavoro interessante, è un lavoro anche impegnativo, che però diventa importante perché contribuisce a migliorare l'informazione, la comunicazione e quindi ci avvicina. Enrico mi ha chiesto adesso che ruolo può avere la memoria. Io nel mio intervento sul libro del professor Corrini ho fatto appunto cenno a l'importanza della memoria, che ritengo sia il tesoro effettivo di un popolo. Un popolo non è un popolo senza memoria, anche perché la memoria è quell'elemento che ci permette di mantenerci in relazione con chi ci ha preceduto e ci proietta verso un futuro, ossia con le persone che in qualche modo abiteranno le nostre case del futuro. Perché è importante la memoria? Perché ci permette di non partire mai da zero, ma di appoggiarci al lavoro di chi ci ha preceduto. Anche perché poi la vita la impariamo da chi ci ha preceduto. Su questo testo troverete una scansione negli ultimi trent'anni di quello che è avvenuto nella pastorale parrocchiale. E qui magari pongo già una riflessione che può fungere poi da dibattito, da confronto. Vedrete su questo lavoro che ha fatto il professor Corrini come ci sono per trent'anni il ripetersi delle quasi stesse cose. Mi sono domandato, mentre leggevo il lavoro che è pubblicato, mi sono domandato ma è più una risorsa il fatto che la ripetitività diventa un elemento che affonda le radici, che dà continuità, che rafforza l'importanza di quello che si fa oppure è mancata una sorta di aggiornamento, non siamo stati capaci di andare incontro a nuove esigenze. Io ritengo più la prima delle due ipotesi, anche se può essere che anche la seconda abbia un qualche fondo di verità. Però vedete come la nostra parrocchia e in particolare l'oratorio ha martellato per trent'anni alcune cose diventando parte di noi. Tant'è vero che alcune cose sono impresse nella nostra pastorale e anche nel nostro cuore. E ogni qualvolta andiamo a provare a rimodularle, dobbiamo comunque tener conto di una sensibilità che dice come questi eventi si sono impressi in noi. Appunto fanno parte del nostro tesoro, della nostra memoria. Non so se ho spiegato un po' quello che è il mio modo di intendere sulla memoria. Ringrazio Don Davide per il suo intervento, come al solito sempre qualificante e avendo parlato di memoria non possiamo non parlare di storia. Don Barbieri, anche alla luce degli studi da lei svolti e coordinati, come hanno reagito gli oratori bresciani ai grandi eventi del secondo novecento? Penso per esempio al 68, agli anni di piombo, alla caduta del muro di Berlino. Si è avuto una ricezione passiva dei fatti, se non addirittura un rinchiudersi in se stessi, rifiutando il confronto con queste travolgenti realtà? O l'oratorio nel suo piccolo, che piccolo non è, ha sempre cercato di fare del suo meglio per fare qualcosa, se mi perdona il virgolettato? Intanto grazie e non è solito trovare una comunità come la vostra, che trova risorse, impegno, intelligenza a guardare e a recuperare la memoria di quanto ha scritto nel tempo. Anche perché noi siamo chiamati, come comunità cristiana, a essere capaci di mantenere, di trafficare le consegne che il passato ci fa. Se non ci fosse stata questa attenzione a consegnare a chi viene dopo di noi, l'esperienza cristiana non sarebbe arrivata ai nostri giorni. E' tipico di una comunità che ha incontrato un'esperienza forte come quella del Cristo, non smettere mai di vivere questa passione di continuare a raccontare. E credo che per noi nel nostro tempo è importante guardare nel passato quelle che sono state le conquiste, le fatiche e potremmo dire anche quelle che sono state le conquiste. Oggi l'oratorio di Leno, come tanti oratori della nostra diocesi, hanno avuto in eredità un passato ricco. Veniva detto prima quali sono state i tempi, i modi con cui l'oratorio nel Novecento soprattutto ha significato. intanto mi pare che è interessante dire che è sempre stato un luogo di grande accoglienza e di grande apertura credo che non esista un brisciano che possa dire io non sono stato sfiorato dall'oratorio perché in fondo l'oratorio è sempre stato in tempi in modi diversi una casa educativa che ha avuto la passione di incrociare i giovani si faceva prima riferimento a quello che era stato il 68 e c'è da dire che molta parte di quel tempo, credo anche qui a Leno, molte battaglie, ricerche, sogni, utopie nascevano dentro nella casa del curato, nel cortile dell'oratorio questo vento, potremmo dire, di novità ha toccato e mi pare non semplicemente di risulta ma si è stati protagonisti perché l'oratorio è sempre stato un grande momento di creare passione provate a pensare ai momenti in cui nell'oratorio sono sempre stati attenti ai temi della sociale, della politica, della cultura e qui credo sarebbe lungo narrare ma è giusto e credo che è significato molto anche nel testo tutto quello che ha saputo dire di grest, di cultura, campi scuola provate a pensare anche l'esperienza forte che c'è sempre stata anche della presenza delle congregazioni femminili e delle suore pensate al mitico tema degli anni 80, oratorio maschile, oratorio femminile pensiamo anche a tutto il tema relativo agli anni in cui si cercava anche di dare un luogo per i giovani come costruzione di esperienze o di proposte per i giovani ecco, mi pare che da questo punto di vista, e chiudo possiamo dire che la storia delle nostre comunità è stata significata da questa passione della comunità degli adulti a costruire delle case, dei luoghi abitati da volti pensate a tutte le storie di molti volontari, catechisti e animatori potremmo dire che in fondo è stato il cuore di un futuro di ogni comunità ringrazio Don Barbieri per il suo intervento e mi permetto di dire che l'oratorio è sempre stato uno dei punti cardinali della comunità ma è anche inserito in una rete di realtà che sorpassano e di gran lunga i confini locali un meraviglioso esempio di questo rapportarsi con quello che c'è fuori se mi si passa il virgolettato è stato cresciuto in oratorio si è trattato di una iniziativa promossa dalla Oratori di Ocesi Lombarde e avente tra l'altro un testimonial d'eccezione come Giacomino Poretti meglio noto come Giacomo di Aldo Giovanni e Giacomo, il celeberrimo trio comico che ha invitato i giovani a produrre, a inviare poi tra l'altro alla ODL un breve filmato che raccontasse, che spiegasse quanto l'oratorio avesse significato per loro e per la loro formazione se la regia ci assiste dovremmo poter vedere il filmato di Stefano, Stefano Frosio che tra l'altro è stato inserito nel montaggio finale che è stato tra l'altro poi proiettato alla Biennale del Cinema di Venezia del 2017 la regia mi sembra non ci assista la regia non ci assiste quindi faremo prima le domande e poi potremo fruire del filmato l'attesa, credetemi, ne varrà veramente la pena quindi veniamo a Donald Savoldi e a Monsignore e la domanda sarebbe per Don Savoldi le richiederei bene alcune considerazioni sul ruolo dell'oratorio all'interno della diocesi e dei rapporti ovviamente con il vescovo e le realtà maggiori e a Monsignore invece chiederei una domanda un po' simile ma dalla prospettiva praticamente opposta ovvero il rapporto con l'oratorio all'interno della parrocchia quindi diciamo l'interno e l'esterno sostanzialmente inizierei con l'ospite e poi con il padrone di casa grazie grazie a lei, grazie a voi, buonasera a tutti ecco innanzitutto porto i saluti del nostro vescovo Pierantonio il quale davvero plaude a questa iniziativa questo dibattito, questo incontro soprattutto anche per il fatto che venga pubblicato un libro che racchiude davvero la storia di questa comunità vista dal punto di vista appunto dell'oratorio della realtà giovanile ecco alla diocesi e il vescovo in particolare sta molto a cuore l'oratorio come luogo di incontro luogo di formazione luogo di crescita cristiana e luogo anche di ricerca della propria vocazione davvero molti sacerdoti sono nati proprio da un'esperienza oratoriana vengono proprio da aver vissuto la propria fanciullezza e giovinezza all'interno dell'oratorio vivendo quello spirito di preghiera di servizio di condivisione, di dono che appunto hanno sperimentato nella loro vita tante famiglie cristiane anche della vostra comunità sono nate proprio all'interno dell'oratorio quando animatori, educatori sono incontrati e conoscendosi partecipando a un cammino comune condividendo un cammino di fede hanno dato vita anche a delle famiglie cristiane ecco questo per dire che l'oratorio è davvero un po' il cuore pulsante della realtà giovanile nella nostra diocesi anche adesso il vescovo ha un'attenzione particolare agli oratori la sua preoccupazione è quella che davvero ogni parrocchia possa mantenere attivo e vivo l'oratorio attiva e viva l'esperienza oratoriana anche le parrocchie piccole anche dove ci sono pochi bambini pochi giovani ecco l'esperienza deve continuare proprio perché la vita dell'oratorio è davvero una scuola di vita per molte persone quindi una preoccupazione che c'è e che nasce tant'è che la diocesi da questo punto di vista sta investendo anche nella formazione di guide dell'oratorio laddove viene a mancare la figura del sacerdote del curato del direttore dell'oratorio religioso sacerdote ecco che si propone la presenza delle guide dell'oratorio che possano davvero interpretare e portare avanti quelli che sono i valori gli ideali che sono propri di un luogo come questo che non è soltanto un luogo fisico ma è un luogo di vita perché appunto vede la presenza di molte persone stasera stessa vediamo che ci sono piccoli adolescenti giovani adulti anziani che sono qui all'interno dell'oratorio e vivono questa esperienza stasera di fraternità di incontro e di amicizia ecco quindi è un'attenzione particolare che la diocesi vuole avere negli oratori e investe proprio anche nella formazione di coloro che potranno essere le guide dell'oratorio la ringrazio e ora la parola a Monsignore ecco innanzitutto ringrazio la vostra presenza ma anche la presenza di questi confratelli tra l'altro con Don Barbieri abbiamo vissuto momenti belli in Curia quando lui era direttore dell'ufficio oratori e io direttore dell'ufficio per la pastorale vocazionale e dello spirito e abbiamo lavorato tanto insieme e anche un po' litigato qualche volta su è nella natura dei due dice lui ma dedicato per chiarirci bene sulle tematiche sui mezzi da utilizzare per la pastorale giovanile e vocazionale e tra l'altro precedentemente quando lui era già direttore dell'ufficio oratori e io ancora curato in oratorio ha travagliato è stato dato offerto in modo ufficiale il progetto educativo dell'oratorio degli anni 80 da Monsignor Foresti proprio nel mio oratorio di travagliato e ricordo bene quei momenti molto effervescenti insomma e mi si chiedeva prima del rapporto tra la parrocchia e l'oratorio io ci tengo molto a dire lo dicevo quando ero curato l'ho detto sempre quando ero parroco e adesso che sono parroco che non c'è distinzione quando si parla di parrocchia si parla di tutto quanto la parrocchia offre come azione pastorale per condurre bambini ragazzi adolescenti giovani adulti anziani condurli al Signore e far fare l'esperienza di famiglia famiglia nella quale Cristo è al centro una famiglia di cristiani e quindi vorrei dire che il rapporto è naturale l'oratorio è l'espressione dell'amore della comunità cristiana un amore che fa crescere nei confronti dei loro ragazzi figli più giovani e insieme delle famiglie perché soprattutto ultimamente ma già da sempre si è scoperto o meglio si è insistito sul fatto che l'oratorio non può camminare i ragazzi che frequentano l'oratorio non possono camminare senza l'apporto delle loro famiglie quindi è anche un luogo dove la famiglia si riconosce e sostiene da una mano naturalmente allora se è questo l'oratorio è davvero segno concreto dell'amore che una comunità cristiana ha nei confronti dei suoi figli che devono pian piano crescere maturare e fare loro la scelta della fede cristiana perché finché sono piccoli sono condotti dai più adulti ma a un certo punto devono essere loro a scegliere di essere e di vivere da cristiani l'oratorio li conduce in questa scelta pian piano ma sempre in armonia con la parrocchia della quale l'oratorio fa parte essenziale e se si ricorda Corrini quando abbiamo visto insieme un po' la sua opera perché lui è stato molto umile e è venuto a chiedere a me dice certe cose va bene così non va bene faccia le sue osservazioni perché è giusto che il parroco dica eccetera se si ricorda gli ho detto mi raccomando tieni presente che l'oratorio è parte della parrocchia e che il parroco va anche lui all'oratorio perché lo sente li vuole bene non solo perché io stesso sono stato direttore dell'oratorio ma perché sento che se non ci fosse è una mancanza grave per la parrocchia e capite bene che quando dico oratorio non dico solo i muri anzi dico innanzitutto chi nell'oratorio vive opera quindi sia chi fruisce della opera educativa dell'oratorio ma anche chi è impegnato a partire dal curato agli catechisti agli educatori agli animatori sia quelli sportivi sia quelli del greste e di quant'altro ancora ecco è importante però che davvero noi ci teniamo molto a far vedere che lo amiamo l'oratorio cioè a dare anche dei segnali quindi sentirlo con affetto l'oratorio ecco perché a volte si coinvolge la comunità cristiana anche chiedendo aiuti non solo economici anche perché badate bene che anche l'aspetto economico non è secondario se vogliamo fare delle offerte educative queste costano sempre anche dal punto di vista economico ma non è solo questo a volte si chiede proprio l'aiuto della presenza di un affetto che si dimostra davvero efficace nel sostenere magari e incoraggiare le iniziative perché oggi si è anche molto facili a criticare a polemizzare a detrarre e invece bisogna essere davvero solleciti nel guardare gli aspetti positivi e certo aiutare l'oratorio a evolversi in modo che possa utilizzare gli strumenti che oggi ci sono per parlare ai giovani trovare i linguaggi giusti di parlare ai giovani termino dicendo che nella mia introduzione ho detto tra le altre cose che l'oratorio secondo me ha ancora un ruolo fondamentale ed è ancora una proposta molto valida per la formazione e la vita cristiana dei ragazzi però è necessario certo aiutarlo ad adeguarsi ai linguaggi alla cultura di oggi non nel senso di abbassare la proposta ma nel senso di trovare il modo di farla percepire la proposta evangelica perché questa sempre deve essere la nostra proposta il Vangelo di Gesù Cristo questo è anche quando proponiamo il gioco quando proponiamo il gresti campi scuola e tutto il resto noi lo proponiamo a partire dal Vangelo di Gesù perché se no non avrebbe senso e dicevo che oggi forse un po' di crisi anzi la crisi c'è anche per l'oratorio però richiamavo il fatto che anche nel passato ci sono stati tanti momenti di crisi per l'oratorio e abbiamo visto che i nostri chiamiamoli antenati i nostri padri sono stati capaci di prendere in mano la situazione e con grinta superare quei momenti e trovare strumenti nuovi per continuare a far sì che l'oratorio fosse una proposta efficace dentro la comunità cristiana e dentro la società civile perché ha qualcosa da dire e da dare anche a quella e dicevo allora facendo memoria del passato desideriamo imparare il coraggio la fantasia la capacità di scommettere e di spenderci per un futuro migliore nel quale i nostri ragazzi e giovani insieme alle loro famiglie possano ancora trovare nell'oratorio il luogo di una vera esperienza cristiana dove le persone vivano la gioia di appartenere a Cristo nella chiesa in un cammino di fede di comunione e di viva carità testimoniando la bellezza di essere discepoli e missionari di Gesù nel tempo e nella storia e questo è l'augurio che anche questa sera io faccio all'oratorio grazie Monsignore passando dal sacro al profano dobbiamo anche ricordare come l'oratorio sia sempre stata una fucina di virtù civiche per esempio San Giovanni Bosco esortava i suoi ragazzi ad essere buoni cristiani e onesti cittadini e tanti ragazzi cresciuti in oratorio si sono poi impegnati a vario titolo nella società civile e al servizio del bene comune chiederei quindi al sindaco Tedaldi un contributo ovviamente anche a partire dalla sua esperienza diretta dei rapporti fra appunto l'ordine costituito la società laica e l'oratorio grazie grazie Enrico innanzitutto grazie a Don Davide a Monsignore e ovviamente a Professor Corrini per avermi invitato stasera a portare così un po' la mia esperienza e la mia testimonianza perché dire l'oratorio è stato per me un punto di riferimento fin da piccola io non essendo più giovane sono una di quelle che ha frequentato ancora l'oratorio femminile Sant'Agnese a Leno perché quando ero piccola io c'erano ancora i due oratori e ricordo benissimo quegli anni e poi ovviamente nel periodo dell'adolescenza invece ho frequentato questo oratorio sono cresciuta in oratorio sono cresciuta in oratorio e per quel che mi riguarda l'oratorio era davvero il punto di riferimento era il luogo d'incontro era il luogo in cui si veniva certo a pregare ma era anche il luogo dove ci si veniva a divertire dove si veniva a incontrarsi a scambiarsi le idee e a passare le domeniche e le serate e credo che questo mi abbia segnato abbia segnato la mia crescita ma è anche qui dall'oratorio che sono stata un po' spronata come diceva Enrico Pocanzi ad approcciarmi al mondo chiamiamolo così tra virgolette della politica è da qui che mi è stato detto ma perché non provi a impegnarti al servizio della comunità e quindi da qui ho cominciato la mia esperienza amministrativa più che politica direi l'oratorio quindi come punto fondamentale di riferimento poc'anzi negli interventi si diceva qual è il bresciano che non è passato almeno una volta dall'oratorio o addirittura qual è il prete che non è cresciuto l'oratorio ma nel territorio bresciano dove gli oratori sono così importanti mi verrebbe da dire qual è il sindaco che non è cresciuto all'interno dell'oratorio e vedo che Maria Teresa sindaco di Pavone asserisce alla mia affermazione l'oratorio quindi davvero punto di riferimento credo che per un amministratore non si possa prescindere dal tenere in considerazione e da lavorare collaborare con l'oratorio l'oratorio secondo me è una delle agenzie formative più importanti delle nostre comunità dopo ovviamente la scuola agenzie formative importanti perché aiutano tantissimo gli adolescenti fin da piccoli direi quindi i bambini gli adolescenti i nostri giovani a crescere e un amministratore credo non possa come dicevo prima prescindere dal tenere in considerazione ma dal collaborare io posso portare la testimonianza e l'esperienza di Leno da anni e non per merito mio ovviamente il professor Corini è stato un amministratore prima di me e quindi può testimoniarlo da anni c'è questa collaborazione nel territorio lenese che in questi anni si è poi concretizzata addirittura con una convenzione fra l'amministrazione e l'oratorio per lo svolgimento di servizi fondamentali e importanti parlo del CAG del centro di aggregazione giovanile ma parlo anche del GREST parlo di un progetto sugli adolescenti e sui giovani perché guardate penso che sia stupido permettetemi il termine pensare di lavorare su tavoli paralleli che non si incontrano mai io credo che far svolgere un'attività così importante all'agenzia più importante del territorio educativo che è l'oratorio sia fondamentale e quindi la collaborazione l'impegno il confronto devono essere quotidiani su questi argomenti perché è da qui che partono poi i nostri cittadini quindi davvero un plauso e un ringraziamento a quanto davvero la parrocchia i monsignori curati fanno in questo senso la ringrazio mi informano che il filmato è disponibile dunque Fiat Lux e godiamoci il filmato nel mio oratorio c'è un posto speciale è proprio in fianco la chiesetta con una porta a vetri che sembra dire entra qui puoi tracciare nell'area delle linee e tutto quello che disegni prende forma all'inizio non te ne accorgi ma i tuoi disegni prendono forma perché c'è qualcuno che silenziosamente fa in modo che il tuo potenziale diventi realtà e l'esempio che ti dà è così forte da spingerti a fare lo stesso per gli altri in modo che anche in loro nascano questa passione e l'apertura verso il prossimo sono Stefano e sono cresciuto in oratorio professore professore tocca a lei Don non sono aziende ripari chiedo scusa costruzione alle pubbliche autorità veniamo quindi al protagonista diciamo di questa serata il professor Corrini un istante ci sarà la luce è l'autore di questo prezioso e significativo volume e inizierei se mi si perdona una nota di curiosità personale con una domanda un po' particolare qual è il primo ricordo che ha dell'oratorio e qual è stato il ricordo più bello o uno dei più belli che associa appunto a questa realtà è un po' difficile è un po' difficile rispondere in maniera sintetica a questa domanda perché si passava tutta tutta la giornata il pomeriggio soprattutto all'oratorio va bene magari si tornava a casa dopo le ore scolastiche del mattino e poi si andava all'oratorio dove ci si trastullava a organizzare le partite di calcio va bene interminabili mi ricordo che non c'erano neanche le docce e quindi le prime scarpe che ho avuto di calcio avevano i chiodi che ti bucavano sotto la pianta dei piedi a volte ne usciva anche il sangue ma noi imperterriti continuavamo a giocare naturalmente questo durante la settimana non mancava mai durante la settimana l'incontro di azione cattolica cominciando dai fanciulli di azione cattolica siamo passati un po' tutti allora gli iscritti all'azione cattolica non erano 25 30 40 come adesso erano 300 400 e lì abbiamo incominciato si incominciava a confrontarsi a discutere a riflettere sui problemi personali familiari per poi spaziare più avanti quando oltre i prejus si chiamavano i prejus si entrava tra i giovani dell'azione cattolica e allora si cominciava a studiare un po' i problemi di carattere socio politico economico e per questo come diceva il sindaco che gran parte degli amministratori nostri quasi tutti aderenti all'azione cattolica alla democrazia cristiana però non mancavano neanche esponenti del partito socialista e del partito comunista già allora negli anni 61 62 63 quindi ricordo bene tutto questo e come ci siamo formati non a caso io a 24 anni ero già consigliere comunale tanto per dire quindi tanti giochi tanta vita spensierata tanta attività motoria sportiva ma anche tanta riflessione la riflessione e la formazione unita allo sport al divertimento naturalmente abbiamo giocato un po' tutti a pallone anch'io ho partecipato ai tornei notturni ne ho vinte anche uno importante mi ricordo che c'era anche un giocatore della nostra squadra schiavone che veniva dal Napoli addirittura era l'ultimo periodo in cui giocava ecco Beppe Merigo il grande giocatore ecco tanto per dirne alcuni e per cui tanti sono i ricordi ma è difficile fare una sintesi in questo momento no? perché la vita era come diceva Monsignore la vita oratoriana aveva una finalità molteplice no? quindi riunire i ragazzi all'interno dei gruppi confrontarsi riflettere sulla realtà ma poi anche saper trovare nell'ambiente oratoriana i momenti di svago ricordo benissimo che un certo ingegnere Lanti Lanti che tutti e tanti avranno conosciuto che aveva in parte anche che ha in parte lasciato un qualche contributo economico dopo la sua morte per la parrocchia diceva sempre a Don Franco Bertoni l'abate poi diventerà l'abate di Montichiari il nostro curato di allora diceva sempre stia attento stiamo attenti che l'oratorio deve anche formare e curare la preghiera e non sia un ricreatorio soltanto perché se manca la preghiera manca la riflessione manca la formazione spirituale manca la catechesi e allora e non siamo più all'interno di un ambiente che si propone come un oratorio di rivolgersi alla persona in maniera integrale e quindi ho trovato ho trovato molto indovinata questa questa copertina e ringrazio Don Davide perché sta a sottolineare come l'oratorio il cuore dell'oratorio è la cappella dove si va a riflettere si va a pregare ci si incontra nei gruppi tra adolescenti tra giovani meno giovani va bene e quindi la preghiera deve essere il punto centrale perché altrimenti finiamo per venire all'oratorio solo per passare il tempo il nostro tempo un po' giocando sudando rincorrendo il pallone o giocando a pallacanestro o frequentando il bar ma non non siamo in un ambiente che deve avere come principale finalità quella di formare la persona in quanto tale e quindi nella sua totalità una persona che deve abbeverarsi a quello che è il messaggio evangelico venendo invece più propriamente al volume le chiederei come ha lavorato cosa le preme sottolineare come ha organizzato il lavoro insomma l'autore a 360 gradi allora chiedo scusa chiedo scusa al gentile pubblico se mi affido a due paginette perché gli argomenti sono talmente concatenati per come è stata ideata e congegnata l'opera per cui perderei troppo tempo se dovessi improvvisare allora per rispettare i tempi e i modi allora io leggerò due o tre paginette e penso di essere abbastanza esauriente penso di essere abbastanza sento il dovere innanzitutto di ringraziare il signor sindaco unitamente gli assessori presenti i consiglieri la bate Monsignor Palamini Don Davide direttore del nostro oratorio Don Alfredo Savoldi delegato del Vescovo che ci hanno onorato della loro presenza e testimonianza ringrazio il numeroso pubblico che ha accolto l'invito dell'oratorio San Luigi in occasione della presentazione del libro libro che si colloca all'inizio presentazione che si colloca all'inizio della tradizionale festa dell'oratorio da tanti anni diventata un appuntamento fisso e tanto atteso da Ellenesi un saluto particolare visto come li trovo qua davanti al nostro ex assessore regionale Mauro Parolini probabilmente può diventare anche sapremo in questi giorni ecco rappresentante a Bruxelles della nostra Italia nord-ovest e anche il sindaco di di Pavone Maria Teresa Vivaldini allora io passerei brevemente adesso e devo dire al testo che ho accolto volentieri seppure con qualche trepidazione le sollecitazioni rivoltemi dalla parte del signor Giovanni Palamini e da Don Davide Colombi che mi invitavano ad offrire il mio contributo nell'ambito del progetto per una storia dell'oratorio bresciano del novecento ideato coordinato da Monsignora Merigo Barbieri l'intento dell'iniziativa diocesana è quello di entrare negli eventi storici caratterizzati dalla presenza della testimonianza evangelica che si fanno azione educativa e promozione umana grazie all'opera di sacerdoti di religiosi e religiose di laici di tante persone che operando spesso nell'anonimato hanno lasciato un segno indelebile nelle loro comunità ecclesiali nelle quali hanno svolto un ruolo insostituibile gli oratori il lavoro di ricerca relativo all'oratorio San Luigi di Leno ha riguardato principalmente fatti ed eventi che hanno caratterizzato l'ultimo trentennio un lasso di tempo senza dubbio tra i più dinamici e ricchi di novità che si pone a cavallo tra i due secoli per rendere concreta e comprensibile l'analisi degli avvenimenti delle motivazioni e degli ideali che hanno sorretto le persone impegnate nella realizzazione del progetto educativo si è ritenuto opportuno nella prima parte della trattazione procedere a comporre un breve scorso storico relativo ad un periodo 1945 2017 che ha conosciuto anche nella comunità civile cristiana di Leno notevoli novità e cambiamenti sotto il profilo economico sociale morale e religioso l'azione pastorale di quattro abati e dei numerosi sacerdoti coadiutori che si sono succeduti nel dopoguerra fino a un decennio al nuovo decennio del nuovo secolo non è altro che una risposta di fronte ad una realtà che è diventata sempre più complessa e problematica l'oratorio San Luigi è diventato punto focale della programmazione delle attività associative ricreative caritative missionarie culturali soprattutto della catechesi per rispondere alle crescenti richieste dei ragazzi dei giovani e delle famiglie il centro parrocchiale ha adeguato le sue strutture ricettive con interventi di ampliamento di ristrutturazione di adeguamento dei servizi nel campo culturale e ricreativo creando le premesse per qualificare l'offerta formativa e le iniziative rispondenti ad una realtà via via più complessa e variegata la parte più corposa e conclusiva dell'opera comprende la registrazione attenta e precisa di fatti ed eventi che si sono succeduti negli ultimi trent'anni dal 1987 poi mi chiederei perché dal questo trentennio magari al 2017 nella parrocchia di Santi Pietro e Pala di Leno particolarmente quelli che hanno visto il ruolo svolto dall'oratorio all'interno della comunità delese le notizie attinte prevalentemente dall'orgono di informazione parrocchiale alla Badia hanno richiesto un'attenta lettura ed un'analisi accurata dei fatti e dei personaggi non solo dei protagonisti ma delle tantissime persone anonime che hanno lasciato una traccia lungo un percorso costellato da tanti segni della presenza e dell'azione educativa svolta dall'oratorio durante la stesura del testo si potrebbe dire che è andata delineandosi sulla scena l'immagine di un coro al cui interno ciascuno interpreta la sua parte contribuendo alla perfetta esecuzione del brano musicale ritengo di aver svolto grazie anche alla collaborazione delle persone che mi hanno prestato un prezioso aiuto soprattutto nella fase di redazione un lavoro che ha contribuito ad arricchirmi dal punto di vista personale mi ha infatto resi ancora più consapevole e fiero di appartenere ad una comunità civile e religiosa che affonda le sue radici nella storica Abazia Benedettina una comunità caratterizzata da forme di convivenza e da iniziative promosse da numerose associazioni che operano all'insegna della collaborazione e della solidarietà spero che queste pagine possano ridestare nelle nesi non più giovani la nostalgia delle lunghe e piacevoli ore trascorse in passato nell'oratorio San Luigi e nei giovani e nei ragazzi appartenenti alle nuove generazioni far sbocciare il desiderio di coltivare sogni ideali e progetti proiettati nel futuro che li attende e se permette il nostro coordinatore il nostro presentatore ecco vorrei che venissero qua davanti qua i quattro collaboratori che hanno prestato il loro servizio mi hanno prestato e dato aiuto in maniera indefessa senza nessun tornaconto e cominciando dal professore Giovanni Fiora sei presente? Sì è qua in giro Giovanni Fiora era qua avanti vieni vieni è lì è lì è lì è lì è lì è lì vieni 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 prego naturalmente non posso dimenticare i frequenti suggerimenti di Don Davide suggerimenti confronti con Don Davide che sono stati preziosissimi vorrei che si presentasse qua Andreini Giampaolo Andreini Giampaolo Andreini che ha lavorato con me al computer per ore ore e ore nella parte conclusiva ha prestato la sua opera professionalmente qualificata Damiano Mariotti si faccia avanti e naturalmente dovrebbe presentarsi qua deve presentarsi qua davanti Frosio Stefano Frosio Stefano che nella fase finale prima che le pagine fossero portate in tipografia con Don Davide e due altri collaboratori penso anche un po' anche a Damiano hanno lavorato per ore e ore verificando tutti i passaggi e confrontandosi tra di loro naturalmente sempre tramite anche il mio controllo hanno redatto Stefano ha redatto il testo finale grazie a tutti per la vostra presenza e collaborazione professor mi ha tolto le domande dal foglio però c'è un intervento dal pubblico un po' speciale diciamo un po' di trepidazione ma ho letto con piacere questo libro scritto in modo semplice ma chiaro un lavoro certosino forse non sempre gratificante ma estremamente concreto se a leggerlo saranno persone cosiddette adulte avranno la possibilità di rispolverare ricordi piacevoli se saranno i giovani potranno riflettere sul valore dell'oratorio come comunità educativa chi conosce Andrea si rende conto che non si è limitato a riportare dati ed eventi ma ha messo il cuore il sentimento i valori nei quali continua a credere e adesso che nonno con amore cerca di trasmettere ai suoi nipoti per questo mi sento orgogliosa di conoscere un uomo che ritengo grande non tanto in altezza ma per la sua sensibilità ed umanità grazie Andrea adesso ringrazio forse perché tu sei mia nuora e sei una donna molto alta però io non sono un nano grazie ancora volevo ringraziare anche Enrico per la sua preziosa moderazione vi dico adesso abbiamo i nostri amici della banda giovanile che ci leggeranno con un loro saggio che hanno aspettato facciamo un grande applauso anche per loro e diamo da solo un'informazione questo libro che è la continuazione dei nostri oratori che era quel libro che c'era qualche anno fa azzurrino molto bello è la continuazione di quello chi volesse può venire qua non ha nessun costo se uno vuole lascerà un'offerta è per tutta la comunità un regalo che ha fatto Andrea per la comunità Enrico e sopra abbiamo anche adesso verrà allestita una mostra una mostra che racconta il mulino delle lettere lasciamo Enrico che vi spieghi che cosa sia e che cosa rappresenta sarò molto breve perché trepida il corpo musicale Vincenzo Capirola e voglio lasciarvi in mano i sapienti come le loro molto semplicemente il mulino delle lettere è stata un'iniziativa che mi ha proposto Don Davide e che ho portato a termine grazie alla collaborazione di Daniele Zucca e di Damiano Mariotti e si tratta molto semplicemente di alcune poesie e di alcuni dialoghi illustrati e vorrei semplicemente che questi dialoghi e questi testi fossero degli specchi in cui l'intimità di ciascuno può guardarsi senza sentirsi giudicato bensì semplicemente compreso anche senza dover dire una parola anche senza doverlo dire ad alta voce vi ringrazio ancora una volta e ringrazio ancora i nostri ospiti il professor Corrini il sindaco Tedaldi Monsignor Palamini Don Savoldi Don Barbieri e Don Davide grazie dell'attenzione e prego